Salve a tutti, ben ritrovati nel mio antro delle letture misteriose. Questo è il rifacimento di un video che avevo pubblicato alcuni giorni fa, ma non esiste più sul canale. Il motivo è che avevo utilizzato un termine in maniera del tutto inappropriata e mi è stato fatto notare dagli amici che avevano già lasciato dei commenti. Vi chiedo scusa se non vi ho risposto, non l'ho fatto per maleducazione o per incostanza, ma per il semplice fatto che quando mi sono resa conto della gastroneria che avevo detto, non ho avuto il coraggio di lasciare il video per un minuto di più, quindi l'ho dovuto rimuovere, è stato un dovere nei confronti di me stessa. Adesso voglio raccontarvi il motivo per cui avevo caricato quel filmato. Dovete sapere che quando avevo 17 anni ho subito un approccio pittoresco da parte di un efebofilo, quindi un signore molto anziano che ha cercato di farmi delle avance. Era una ragazzina tutto sommato sveglia e quando ho capito dove questo personaggio volesse andare a parare me la sono data a gambe, sono scappata via, sono andata a nascondermi e sono riemersa nella realtà soltanto quando mi sono reso conto che il pericolo era scampato. È stata un'esperienza antipatica, avrebbe potuto essere traumatica, ma per fortuna sono riuscita a tirare fuori il lato buffo, perché quando ho ritrovato poi le mie amiche ho raccontato loro questa vicenda e ho iniziato a fare l'imitazione di questo anziano piuttosto estroverso. Quest'imitazione è diventata il mio cavallo di battaglia e praticamente l'ho fatta e rifatta per anni, finché un paio d'anni dopo, quando ero alle soglie del diploma, sono stata ascoltata accidentalmente da un insegnante del mio liceo che stava scritturando attrici per interpretare la lisistrata di Aristofane. La scuola che ho frequentato era prettamente femminile, quindi anche i ruoli maschili potevano essere interpretati da ragazze e questo insegnante stava cercando per l'appunto un gruppo di quattro ragazze disposte a farsi beffe di se stesse interpretando ruoli maschili, quindi ricoprire vari ruoli che che servivano per il coro dei vecchi. Io ovviamente sono stata scritturata seduta stante, senza se senza mai, è stata un'esperienza estremamente divertente. La mia unica esperienza teatrale, nonostante sia stato un grandissimo successo, non ho proseguito su questa strada, non so bene per quale motivo, però è andata così. Alcuni anni dopo ho scoperto il meraviglioso mondo degli audiolibri e poche settimane fa sono stata contattata dalla mia carissima amica Vir che ha proposto alla Musifabolista e a me di interpretare assieme un trio di donne che fanno parte di una bellissima rappresentazione teatrale di Luigi Pirandello, Il Berretto a Sonagli. Mi sono divertita moltissimo a collaborare con Valentina e Ilaria. È stata un'esperienza stupenda che spero di poter ripetere al più presto e vorrei invitarvi ad andarla a guardare, se non l'avete già fatto, sul canale di Vir. Quindi vi lascio il link sia in descrizione sia nella schermata finale. Vorrei anche ragguagliarvi su altre piccole novità che ho in corso. Ci saranno diverse collaborazioni che verranno pubblicate fra qualche giorno, quindi ve ne parlerò più avanti. Nel frattempo ho prestato la voce alla mia amica Deborah Parisi del canale Silver Drago. Quindi se siete curiosi di scoprire un po' di leggende sulle Alpi Apuane, vi invito ad andare a vedere il video nel quale ho collaborato che è stato da poco pubblicato sul suo canale. Ovviamente vi lascerò il link sia nella descrizione che nella schermata finale. Altra novità succulenta per chi a Telegram ha voglia di iscriversi al mio canale Chiacchiere audiolibri di Rosanna Lia e ama i racconti narrati dalla mia voce ma vorrebbe ascoltarli con un tappeto musicale adeguato. Ho aperto questo canale qualche tempo fa nel quale settimanalmente pubblico dei racconti con una colonna sonora creata appositamente per l'occasione. Fra qualche giorno ne ripubblicherò uno bellissimo di Aisa Kasimov. Nel frattempo vi invito ad andare ad ascoltare la notte di Guido Emo Passant. Amo appassionatamente la notte. L'amo come si ama la patria o l'amante, di un amore istintivo, profondo, invincibile. L'amo con tutti i miei sensi, con gli occhi che la vedono, con l'odorato che la respira, con le orecchie che ne ascoltano il silenzio, con tutta la mia carne che le tenebre accarezzano. Le allodo le cantano nel sole, nel cielo sereno, nell'aria calda, nell'aria fresca dei chiari mattini. Il gufo fugge nell'oscurità, nera macchia che passa attraverso lo spazio nero e rallegrato, inebriato dalla nera immensità, lancia il suo strido vibrante e sinistro. Il giorno mi stanca e m'annoia, è brutale, rumoroso, mi alzo a fatica, mi vesto svogliatamente, esco di cattivo umore e ogni passo, ogni movimento, ogni gesto, ogni parola, ogni pensiero, mi stancano come se sollevassi un pesante fardello. Vi piacerebbe ascoltarlo tutto quanto? Lo trovate sia qui su YouTube senza musica che sul canale Telegram con il sottofondo musicale di Zero. Quindi se vi fa piacere, buon ascolto! Io adesso vi saluto, credo di aver parlato abbastanza per questa volta, vi abbraccio tutti. Se vi piace quello che faccio sul canale, per favore lasciatemi un like e un commento. Il commento è importante perché i like sono anonimi, i like e i dislike. Quindi se volete lasciarmi il dislike, a me va bene lo stesso, non ho problemi particolari. Però se mi lasciate un commento e mi fate vedere che ci siete, io sono ancora più contenta perché posso rispondervi e posso comunicare con voi, che per me è una cosa estremamente importante. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo presto con nuove succulente e nuvità. Ciao!